Mentre a pochi metri di distanza la mostra di Lucio Fontana in qualche modo riassume la storia recente di quanto accaduto in Pirelli e Angar Bicocca, nello spazio dello Shed del Museo Milanese si dà libero sfogo a tutto ciò che normalmente nelle mostre non si può fare. E dunque ecco una nuova versione di uno storico progetto dell'artista Christian Boltanski e del curatore Hans Ulrich Obrist, Take Me, I'm Yours, che proprio Obrist ci ha presentato così. Vogliamo fare qualcosa che da abitudine non si può fare nella mostra, una cosa in attesa, evidentemente la cosa principale è che una mostra d'arte non si può fare e toccare e ancora meno togliere gli oggetti. E qui abbiamo questa idea che ognuno può diventare parte della mostra e soprattutto la mostra continua fuori i muri dell'Angar Bicocca, fuori il muro delle istituzioni dove ha luogo, perché i visitatori sono invitati a portare via tutti gli elementi della mostra e dopo la mostra continua in casa loro. Dunque si può dire che a partire di oggi questa mostra ha luogo in decinae di migliaia di case di Milano e del mondo. Lo scambio, la dispersione, la vita delle opere al di fuori è oltre il contesto classico in cui le immaginiamo. Pertanto ecco i cioccolatini di Karsten Öller con la scritta Future, oppure le spide riverenti di Gilbert & George, l'albero dei desideri di Yoko Ono che accoglie i visitatori all'ingresso dell'Angar, oppure le caramelle alla menta di Felix Gonzalez-Torres, o ancora i ritratti degli spettatori realizzati da un giovane disegnatore ma con l'imprinting di Francesco Vezzoli. L'idea concettuale che sostiene il progetto si chiarifica ulteriormente quando Roberta Tenconi, che insieme a Chiara Parisi ha co-curato la mostra con Bottaschi e Obrist, ci spiega che in linea di principio l'esposizione non dovrebbe avere una data di fine, ma solo aspettare di essere completamente svuotata. Ma vivendo nel mondo reale questa data di conclusione c'è, come ci sarà un evento di finissage. Per la data di chiusura, che è il 14 gennaio, speriamo che la mostra sia vuota. Uno degli aspetti fondamentali della mostra è che cambierà, non sarà mai uguale a se stessa. Ad esempio qui siamo tra le pile di vestiti di Christian Boltanski, diventeranno sempre meno, speriamo, se la gente verrà e inizierà a prendere i vestiti, come succederà con tante altre opere. Certo è che quando è una figura autorevole come quella di Hans Ulrich Obrist a proporre una tale eresia degli spazi museali classici, è molto probabile che dall'hangar parta anche una sorta di nuovo standard espositivo, ma lui, da persona intelligente qual è, non eccede con i riflettori su di sé. È molto fondamentale che questa mostra è nata e co-curata con un artista, con Christian Boltanski, e che abbiamo sviluppato dialoghi con tutti gli artisti nella mostra e penso che questo è l'aspetto la più fondamentale. Il curatore sempre impara degli artisti.